Ok, la premiata dita Amore & Company è lieta di annunciarvi che sono arrivati i nuovi coniglietti e questo è uno dei quattro esemplari, i magnifici quattro praticamente questa è Biancaneve versione seconda, perché l'altra Biancaneve ormai sarà già grande che ha diversi mesi e questa coniglietta o questo coniglietto non sappiamo neanche se è una femminuccia o un maschietto è pronta è pronta a cosa? Ad essere amata e coccolata in un posto pieno d'amore insomma rotazione 360 gradi, amore a 360 gradi guardate, anche sul lato B, lato A, lato profilo a